Ciao però, Bosta Ciaciore! Andiamo a Comunzoa e entriamo a Talbucciunda Azzina da cento anni fa in Montulmea del 1870. Andiamo a Comunzoa! 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 Buongiorno! Allora, sei venuto e vi faccio qualcosa? Così che mi andremo! Andiamo! Allora, benvenuti! Grazie! Andiamo! Andiamo a Comunzoa! Andiamo a Comunzoa! Andiamo a Comunzoa! Andiamo a Comunzoa! Ho cominciato, e ho un anno che mi ha detto a Ciaciore, e vi sono venuti a bevere un po' di un po' e poi, Sì, il sogno è un po' che ha il suo nome che non si usa e lei con un sacco per me c'è Ma non si sa che Pieruzang ha letto o segue la d'Alico mentre ci sono lei, ha vado il sogno Qual è Pieruzang? Oh Caterina, ti dà! Esci! Sommi, vorrei farvi vedere se avessi visto il nostro Zastè perché le tute aziende erano cerchi e nel compito ci trovano un leo Hai che l'hai visto? Lì, l'è incata la zina, cos'è la trassata con il sogno? L'è incata in una maniera di vivere Tutti di all'usteria, ha mangiato, ha bevato, ha lasciato la cua Ha lasciato la famnacca con i nasci troppo di caciuri ha mangiato due patate in badera o due posti in via e non aveva manco una granna solo per salire né i lacrimi in d'ora per pensare che la cua e poi con i tuoi polvi tutti hanno incerto la cua al costo e non dirai niente e sono cose sono cose che se erano a fai e vorremmo scappare con la mia forza e dare una città in sinistra Allora, oggi è pazienza Katari adesso la stella ti ci tolta ma che ti vuoi? Sì, ti ti incoraggiungo Ma non, non ti ti incoraggiungo lascia fuori fai così, ti voglio che con i tuoi ragazzi dici la tortura con i cavalli grigli che si mangia il poco che aveva a bui bucui e a zue come ora che vorrei che fosse e poi, e poi se è vero che Dio ho trovato più ossa in cupina e in saccato situati sotto l'oscella e indossano in Piemonte a cercare una fatta pulenta per numeri di fome Ma, e ti vuole ma solamente lo che voglio da uscire un'altra fabbrica voi io ce la vai da vivo Ah, lo che voglio andare a fabbrica non c'è ancora una cuglia di nuovo E questa chi si? E chi è lo di nuovo che aveva tanti paio? La fabbrica avanti era tutto il mondo è rudiato Tutto il mondo è rudiato? E fatti chi si? E io non ti dico niente, no? E chi ti dice? E chi ti dice? La rudiva l'altro dì Mariona di Baticaino era Siva del fumo della Ciambrina e diceva che l'aveva sentita d'Anna Maria di Bedin e che lei l'ha sentita nella sua abitura Oh! Allora! E questa maga che altre famiglie fa tutto il mondo? E poi, la fabbrica ne potevano in terra perché ogni anno che possa fare i figli ne manda la fabbrica e diceva che andò da fuori con un po' di broi e con un po' di goni 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 che seguono il mondo per il tanto che la comunità hanno dato il suo privilegio alla fabbrica e l'aveva di Paoli la sera e sono andata e con un po' di goni non lo so non lo so ma non lo so e se fosse via alla goni e sono belle mendiche perché se fossimo domani bigotti come voi e Marghe con qualcosa o sua all'apurremmo condua ma qua a tolba lano o se mangiare poco claveva a zio e a salacola Eh, avrei seduto da mento ai miei e mi fosse pieno amore ricco. Sì, là, via, dove ti puoi? Che fatti fai? Sì, là l'orduno! Ma ti voglio? Che coca di upiraggi dici? E senti, se non capisci che oggi ti hai bisogno di qualcosa, e dimmi a me, mi ti so che ti dico voglio bene. E anche se ti fuggono di qualche istante non tu sai, mi è pure anche forte del bene, ecco. Ma, mi ne ve ne intendo, che vorrei dire quello lì? Senti, ho un posto che sono soli, e ti dico, e te cattà un bel po' di calzate russe da Anna Maria di Bedino, e mi sono costo cinque pezze da sette e mezzo, apposta per d'altra, no? Ma mi è solo una famiglia da calzate russe, e poi questo è tonto, e ho insomma tonto un'altra miseria. Buongiorno! Oh, buongiorno Anna Maria! E non hai un po' di calzate russe da famiglia! Credi che c'è? Oh, e direi, ma che era se c'è? Vanno proprio bene! Aveva il poco, sai! Grazie! Grazie! Allora, grazie Anna Maria! E ormai se! Ormai se! Ormai se! Ormai se! E ti dico che ti cattò apposta per d'altra, e anche se ti fai uno di quelle che... è tanto un sacco! Ma io ne ve lo intendo! E vorrei dire che ti vieni a stare qui sotto il porto di Balchetta, e che ti aspettassi a cattà di una cattà di un baron di Peltie, che io avevo un figlio a più calzate russe e che io cattò il fondo a una banca, apposta per d'altra!